e bella a tutti ragazzi eccoci qua in questo nuovo video oggi siamo nel t-show McBang del pranzo con queste fantastiche cottolette con anche disegnata sopra ad ogni cottoletta la mia M con la maionese direttamente con la maion guardate perfetta la M di Mirko May Thomas e qua abbiamo praticamente anche il cucchiaio inzuppato nella insalatira che abbiamo messo condimento e olio extravergine d'oliva, aceto di vino classico e poi un po' di salino eccolo qua carote e cetrioli buon appetito a tutti quanti e ora iniziamo ah i panini non mi sono ricordato ma non li ho messi neanche in cosa pazienza pazienza ma sono scordato questa cosa eh saranno un po' duretti eh come panini però proviamo ci proviamo a mangiarli vabbè amazing ah vabbè ah troppo buone eh se vuoi è un mio tuppoletto ce la vado a far andare ricordo che questo video dura dieci minuti se non riesco a finire in questo tempo in dieci minuti tutto quello che ho non mi interessa il video ma che venga l'ho portato basta eh abbiamo da bere un po' di succo alla lancia dalla ma vi chiedo che este il mondo che contesta è il puerto sol non è il mamma al mismo sol è il puerto sol boh ovviamente potrete di pollo direttamente senza spinacsi cotto di palla da pelle figlio da pollo che c'è anche pollo fai la gombina guai si dà le tante niente tu sai abitanti di questa città direttamente tutto per posizione abbiamo la nostra porzione porzione magica tutto salutare oggi ci vuole un po' mangiare così ci vuole veramente un tanto un'insalata fantastico è chiaro quanto pare continua a cadere giù andanza un penzuppamento con l'ogliamento e 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 c'è talmente troppa luce quindi abbassiamo un po' perché non vedo più tanto sì ok Grazie a tutti. Al bacio troppo, insalata così, top, nelle giornate di pensione, oggi mi sento molto carico ultimamente, sono determinato, ho deciso di tornare anche con le recensioni, appena mi arriva il paio di cuffie Bluetooth a Black Shark Wireless farò anche la recensione su YouTube. E poi sul TikTok vi condivido direttamente la cover con il post e poi con scritto dove cosa dovete digitare su YouTube e digitatemi il Covicita, trovate il mio canale, andate ad iscrivervi e tramite la sezione video trovate l'ultimo video, la recensione, un esempio. E' bello che oggi ho solo questa lampada, è bello che ho una, all in one, che è una, però fa anche una bella, diciamo non è male, la qualità è perfetta sicuramente anche con questa lampada. Perché tutte le volte devo stare a mettere le due lampade per la live, una volta di tanto, anche una soltanto è già sufficiente. dobbiamo sempre, dobbiamo sempre essere sempre con le stesse colori, dobbiamo fare anche delle variazioni di lampade, dobbiamo sempre le stesse. a posto a pulire il tè, è una visitrice ad aria, tutto un'altra storia, non fa problemi di reflusso, è ottimo. di qualità portanto anche la buccia del cetriolo con la spella patate così sono ancora molto più buoni o si toglie sempre non lo so perchè diciamo è da tanto che non faccio un'insalata fatta da me perchè c'era sempre il mio fratello che faceva l'insalata quindi oggi è come adesso che dall'altra settimana lui lavora in ufficio praticamente io adesso mi so gestire anche a fare le cose da solo come vedete l'insalata non si vuole tanto taglio un cetriolo, faccio carote, tacca, pezzettini e via non è che faccio Sì siamo già a 8 minuti e 30 quello che rimane non mi interessa è portato a avere fatto tenere fame a tanti di voi per questo mio video McBain avendo un po' di gengive infiammate per quello che faccio fatica a masticare ecco il motivo è perché ci metto un po' di più ora sono duretti per quello cetroli e carote non è che sono diciamo molli molli in cetrolo si ma le carote agliate a pezzi no se non che le fai bollire è un'altra storia io metto la mano così vedo l'orario se no c'è troppa luce che riflette nel contro bene gente io chiudo con questo video McBain spero che vi sia piaciuto perché siamo quasi alla fine dei 10 minuti quindi alla prossima spero che vi sia piaciuto lasciate un like iscrivetevi e mi raccomando attivate la campanella e poi seguitemi nel social ciao e alla prossima ciao